Valentina Romani, ci ritroviamo ai nastri 2023, premio Biraghi, perché te l'hanno dato secondo te? Oddio! Non lo so, spero che non si siano sbagliati. No, beh, è stato un anno molto fortunato, sono veramente molto molto emozionata, non so se si percepisce, comunque è un momento molto bello e sono felicissima di essere qui, di vincere questo premio con un film così prestigioso a cui ho dato tanto e che mi continuo a fare felice durante questo percorso bellissimo che sta facendo. Ci siamo viste proprio due sere fa per il doppiaggio di Elemental, bellissimo periodo per te e ti auguriamo il meglio. Cosa cambia per te questo altro premio? Grazie, beh, sicuramente si aggiunge una stella in più al mio soffitto stellato. Grazie, buonasera. Grazie, altrettanto.